Angelo Lombardo, il titolo italiano, assieme a Susanna Bertucci... 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 abbiamo detto il terzo classificato il secondo classificato Mauro Lombardo Mauro è qua? avevo sempre di averlo visto avevo visto anche la vettura ferma Mauro? non c'è Mauro? va bene riceve il premio Mauro, scusate c'è? Mimmo Guagliardo riceve il premio per Mauro quanto riguarda le 2005 GTS Mauro Lombardo che non era presente credo c'è Mimmo ritira Mimmo Guagliardo perfetto grazie Grazie a tutti.